Buone stelle, da Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Oroscopo Un buon giovedì a tutti e ben ritrovati anche oggi nel nostro appuntamento con l'angolo di Radio Punto Zero dedicato alle stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, sollecitata da giove, la luna in acquario grazie a un'idea geniale, alla complicità di un collega risolve un problema di lavoro. Bello l'amore che vi vede come nelle relazioni brillanti, socievoli e simpatici, ottimo l'umore, effervescente, le ispirazioni creative sono da mettere in pratica. Toro Qualcosa in ambito domestico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi, prevedibile qualche scontro con i familiari. Nella singolarità di questo ritmo non impuntatevi su questioni di poco conto, rimanete con i piedi per terra. Gemelli Fantastica giornata quella di oggi, grazie alla luna e alla schiera di astri che l'accompagnano, aiuti per concludere in fretta gli impegni e dedicarvi allo svago. Coltivate l'amicizia con una persona come se fosse un fiore prezioso, scoprirete la forza della pazienza e della lungimiranza. Cancro Una situazione lavorativa inaspettatamente potrebbe sbloccarsi o trovare soluzioni tali da agevolare la soddisfazione delle vostre nuove esigenze. Conducete eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l'impressione di forzare la mano. Leone La luna è all'opposizione, scortata da Giove e da Mercurio. Potete vedere con chiarezza che i dissapori sono vecchi copioni che si ripresentano. Potete però cambiare modo di entrare in relazione, aprendovi maggiormente al dialogo e all'ascolto. Vergine Non vi mancherà lo slancio per superare d'un balzo ostacoli e contrattempi oggi. Siete abili, potete riuscirci. Decidete cosa dovete fare. Idee, suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione. Lasciate da parte le battaglie di ogni giorno. Bilancia Che input positivi oggi grazie a Giove e alla luna. Avete davanti a voi un giovedì ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. Soddisfazioni nella sfera professionale e affettiva grazie a un buon mix di energia e tolleranza. Scorpione Potete usufruire di un discreto senso pratico. Ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da fare e di muovervi in tempo. Frenate i cattivi pensieri e concentratevi sui vostri compiti. La vostra attività vi regalerà grandi soddisfazioni. Sagittario Sul lavoro supererete un problema in un battibaleno grazie alla prontezza di spirito e al buon senso. Ne ricaverete anche una maggiore fiducia in voi stessi. Giornata ispirata da una maggiore libertà di pensiero e di azione che vi regala uno stato d'animo leggero e fiducioso. Capricorno Cercate di essere aperti alle novità che in campo economico stanno emergendo attorno a voi. Allegra e movimentata è oggi la vita sociale. Nel caso fosse necessario tenete a mente che è meglio rischiare qualcosa che restare con il rimpianto di non aver osato. Acquario Prendono il via opportunità di riuscita nel lavoro. Variazioni di tutto rispetto che assicurano gratificazioni e serenità nel tempo. L'amore è felice per le coppie in cui attrazione e armonia sono stabili. Buon momento anche per gli artisti. Fesci. Carriera e professione guadagnano punti. Siete abili e convincenti e le belle opportunità sono a portata di mano. Fate il vostro gioco. Qualcuno tra i single potrebbe ritrovarsi preso tra due fuochi e non sapere cosa fare. Meglio per ora rimandare la decisione. E' tutto per oggi per il nostro appuntamento con le stelle. Vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna. Radio Punto Cero